Una visita importante, quella di Papa Francesco a Caserta, com'è stare proprio qui, quasi a poche ore dall'inizio? E' emozionante perché diciamo che il tutto si è organizzato in pochissimo tempo, insomma, è stata inaspettata, imprevista e forse anche per questo è più bella. E' emozionante, molto emozionante. Sicuramente emozionante e poi comunque lui porta quello che è l'esempio di Gesù, quindi per noi è importante stare qui, è importante stare con il Papa, è importante stare con il Signore. Sono emozionata, però sono felicissima e un po' stanca, però la felicità supera tutte e due cose. Inizialmente sembrava una cosa noiosa, però poi dopo stare con gli amici e pensare che arriva il Papa diventa una bella esperienza. E' un qualcosa di grande, Cristo in mezzo a noi. Pensiamo che sia una persona, una figura molto interessante e di stimolo per tutti. Ragazzi Siamo inizialmente Alleluia, alleluia, alleluia. Quando una persona scopre Dio, il vero tesoro abbandona uno stile di vita egoistico e cerca di condividere con gli altri la carità che viene da Dio. Chi diventa amico di Dio ama i fratelli. Chi diventa amico di Dio.